Una location che amo molto per diversi motivi è l'Isola Tiberina, in particolare Sotto, dove feci il mio primo film da protagonista che era il ragazzo di Piazza di Spagna e ballai un tango. Quella location mi è rimasta abbastanza nel cuore e poi ci sono andato due mie figlie all'Isola Tiberina, per cui diciamo più di così che vuoi. E invece la location di un film che è amato è il sorpasso ed è la strada alberata di Pini-Laurelia.